Oggi parliamo dei conflitti nelle relazioni interpersonali. È necessario capire innanzitutto il significato e l'origine del conflitto. Come afferma Martin Buber, bisogna che l'uomo si renda conto innanzitutto che lui stesso, che le situazioni conflittuali che lo pongono agli altri, sono le conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua anima e che quindi deve sforzarsi di superare il proprio conflitto interiore per potersi così rivolgere ai suoi simili da uomo trasformato, pacificato, per allacciare con loro relazioni nuove. Infatti, continua Martin Buber, quando l'uomo ha trovato la pace in se stesso, può mettersi a cercarla nel mondo intero. Dunque, il conflitto è legato alla diversità. Diversità che è dovuta all'unicità e originalità di ogni singola persona. Nessuna persona è uguale ad un'altra. Per cui la diversità è insita in tutte le relazioni interpersonali. Per cui, in quest'ottica, possiamo dire che il conflitto si configura come un elemento inalienabile in ogni relazione umana. Oltre a unire le persone, la relazione è intessuta di una serie di sentimenti, di emozioni, di differenze, di vedute, di interpretazioni e di valori che caratterizzano la personalità di ogni singolo individuo. Ecco, questo incrociarsi di vite nelle relazioni può determinare l'innescarsi di dissensi, che se non sono gestiti in modo adeguato, possono generare veri e propri conflitti interpersonali e sociali. Nella nostra società attuale, una società complessa, una società che viene definita liquida, l'incontro con la diversità è una sfida emotiva e cognitiva che richiede continui incontri e confronti, con punti di vista, idee, opinioni e modi di concepire la vita diversa. Da queste considerazioni viene fuori l'esigenza di definire gli elementi chiavi del conflitto, della diversità e della necessità di dare una lettura che sia dinamica, nella dinamica conflittuale, da un punto di vista pedagogico. Allora, come viene definito il conflitto? Il conflitto viene definito come uno stato di tensione che il soggetto esperimenta nel momento in cui rileva bisogni, desideri e motivazioni discordanti che lo portano a seguire una direzione piuttosto che un'altra. Ecco, in questo caso si parla di conflitto intrapersonale, ecco, di conflitto che la persona porta dentro di sé. Il conflitto interpersonale, invece, insorge tra due o più soggetti quando il soddisfacimento di un desiderio o il conseguimento di un obiettivo da parte del singolo entra in contrasto con i desideri e gli obiettivi di altri soggetti. Vi sono poi i conflitti all'interno di un gruppo, quindi i conflitti intragruppo e i conflitti intergruppi, in cui il conflitto avviene rispettivamente o all'interno del gruppo o tra diversi gruppi. Strettamente correlato alle relazioni interpersonali, il conflitto nasce e si alimenta all'interno di ogni rapporto umano significativo. È una dinamica molto complessa, nella quale sono in ballo diversi elementi, quindi dei vari soggetti coinvolti nella relazione, dalle percezioni che si ha di sé stessi rispetto al punto di vista dell'altro, dagli atteggiamenti personali, dalle contraddizioni. Tutto questo è definito come conflitto. Sono elementi che si intrecciano, si influenzano reciprocamente e si contrappongono. Tutto questo fa parte della dinamica dell'espressione del conflitto. Quindi un conflitto coinvolge l'individuo in quanto individuo in ogni suo aspetto, fisico, interiore e psicologico. Il problema è che la maggior parte delle persone che vivono questo conflitto spesso hanno paura del conflitto, preferiscono eluderlo, eliminarlo, oppure tendono a negarlo anziché affrontarlo. Poiché viviamo in una società complessa che generalmente favorisce lo scontro, la prevaricazione, penalizzando il dialogo e l'accettazione di chi è diverso da me. Agendo in questo modo non si fa altro che creare le condizioni affinché i conflitti aumentino e spesso sono dei conflitti con degli esiti chiaramente distruttivi. Per cui è importante saper gestire i conflitti perché altrimenti portano a un impoverimento interiore, scalfiscono le relazioni, destabilizzano, disorientano e portano a una mancanza di autocontrollo. Per questo spesso si ha una concezione del conflitto semplicemente negativa, nel senso che viene assimilato a guerra, a violenza, a scontro, ma questa è una visione essenzialmente parziale. L'aggressività nei conflitti è da considerarsi principalmente come qualcosa di negativo e anche il conflitto stesso viene considerato negativo e quindi si cerca di evitarlo, di reprimerlo, di nasconderlo. Abbiamo compreso allora che il conflitto nasce dall'incontro-scontro delle diversità nelle relazioni tra le persone. Nella relazione è necessario essere consapevoli del proprio punto di vista, cercare di affermare il proprio essere nel mondo, ma prendere coscienza anche della realtà che ci circonda e nella quale si vive. Non bisogna mai in un conflitto alimentare l'aggressività. L'incontro con la diversità mediante reazioni aggressive destabilizza, favorisce l'ostilità oppure la chiusura, l'indifferenza, l'animosità, il razzismo, l'abuso di potere, la coercizione. Queste sono espressioni che non sono sinonimi di conflitto, ma sono delle modalità disfunzionali che i singoli individui adottano per fronteggiarlo. Quindi, da quanto detto finora, emerge che il conflitto è un'esperienza emotivamente impegnativa. Di per sé è neutro, ma dal modo in cui viene affrontato e gestito dipende la sua connotazione. Per cui un conflitto ben gestito è essenzialmente per la crescita e la trasformazione interiore dell'individuo. Se i conflitti, quindi, vengono accettati e onorati, avviene una maturazione dell'individuo, ma altrimenti, se non si affrontano in modo adeguato, si può sperimentare una regressione. Quindi il conflitto deve essere gestito con competenza e, se lo si gestisce secondo questa modalità, assume un valore positivo, predisponendo ogni singolo individuo al confronto con l'altro, che è diverso da me. Quindi diventa uno scambio reciproco e costruttivo. Perché senza questo scambio reciproco e costruttivo, le relazioni si ridurrebbero a relazioni superficiali, false, perché l'incontro con l'altro si limiterebbe all'incontro con ciò che l'altro ha in comune con me. Si potrebbe dire che è l'incontro con un alter ego, non con l'altro inteso come persona unica, irripetibile, in quanto diversa da me. Pedagogicamente risaltano subito allora tutte le potenzialità insite nel conflitto, quale forza creatrice e innovatrice. A questo proposito vengono individuate alcune funzioni che sono potenzialmente positive nel conflitto stesso. Innanzitutto, il conflitto può essere occasione di rinnovamento, di progresso e di cambiamento. Secondo, il superamento di una situazione conflittuale richiede un atteggiamento di comprensione che può aiutare e ridurre il potenziale distruttivo. Terzo, il conflitto può essere accettato e gestito se si riesce a cogliere in esso un significato che interessa la qualità dell'esistenza dei singoli, dei gruppi e delle relazioni tra di esse. Quarta considerazione sul valore positivo del conflitto è che l'utilità del conflitto può essere ricercata nell'opportunità che possiamo cogliere in esso di considerare, di tenere sotto controllo, di prenderci cura delle componenti etiche e morali che qualificano le relazioni interpersonali. Quindi, inoltre, possiamo sottolineare che il conflitto può essere considerato un dialogo nel reciproco riconoscimento. Consente questo di mantenere la propria identità nella reciprocità. Si scopre così che il conflitto non è contrario al dialogo, anzi è la condizione di produttività ed efficacia. E' di fondamentale importanza, allora, pensare che il conflitto è come un momento costruttivo di scambio reciproco, un'opportunità per conoscere l'altro, un'occasione per aprirsi al cambiamento. Comprendere il conflitto significa comprendere noi stessi e il nostro bisogno di stare con l'altro. Lo ripeto, è importante questa affermazione. Comprendere il conflitto significa comprendere noi stessi e il nostro bisogno di stare con l'altro. E questo, malgrado il conflitto, anzi proprio attraverso il conflitto, noi possiamo costruire il nostro benessere personale e sociale. Bisogna dare una centralità al conflitto, perché è parte integrante dell'esperienza della nostra vita. Per questo il conflitto non va mai evitato, non va mai schivato, non va mai penalizzato, perché ci priverebbe della possibilità di infinite risorse che il conflitto stesso ci offre. Bisogna piuttosto sfruttarlo bene per imparare nuove modalità relazionali che ci permettono di trasformare il conflitto stesso in opportunità di crescita. Allora possiamo dire che il conflitto ha un grande valore pedagogico, quindi nella modalità di gestirlo bisogna cogliere tutti i benefici e la positività del conflitto. Bisogna superare quel senso di buonismo, di pacifismo, di accettarlo passivamente. È necessario allora affrontare il conflitto in un processo di formazione integrale. Mai evitare il conflitto, mai chiudersi in un ghetto. Per questo è necessario nella società odierna, cosiddetta società fluida in cui viviamo, aprirsi ad ampi orizzonti, avere una forma mentis aperta, essere dotati di un particolare equilibrio. Equilibrio, sapersi approcciare alla diversità accettandola, accogliendola, però senza fare per così dire sconti, svendendo la propria identità, la propria unicità. Non si può essere alla mercè di tutto e di tutti. Allora è necessario educare a una gestione formativa del conflitto, di modo che il confronto con la diversità non si limiti a uno scontro, ma sia un'esperienza che fa sperimentare relazioni autentiche in cui si parla non solo di ciò che ci accomuna, ma è necessario soffermarsi sulla diversità, sui vari punti di vista, per prendere coscienza della visione dell'altro, della realtà dell'altro in se stesso e così potersi autenticamente confrontare. Questo permette che le relazioni siano autentiche, sia con gli altri che con se stessi. E' necessaria allora una continua educazione al conflitto, all'alterità, alla diversità culturale, raziale, alla diversità di ciò che l'altro è e vive, per entrare in una relazione veramente autentica e costruttiva. Bisogna per così dire aprirsi al confine che ci avvicina all'altro senza voler invadere troppo l'individualità dell'altro. E' al confine che si ha la possibilità di incontrarsi e di arricchirsi. Ecco, generalmente è difficile, dobbiamo riconoscerlo, è difficile accettare il conflitto perché si prediligge generalmente il quieto vivere. E' necessario in determinate occasioni esprimere i propri disaccordi e anche la capacità di stare dentro al conflitto, di sostare nel conflitto. Anche la possibilità di esprimere le proprie dimensioni, le proprie emozioni, le proprie concezioni, quelle più vere e più profonde, che spesso vengono fuori nelle relazioni conflittuali. Ecco, generalmente nelle relazioni conflittuali, nelle dinamiche conflittuali abbiamo la fretta, la propensione di trovare subito una soluzione per uscirne fuori. Ma dobbiamo anche affermare che spesso i conflitti, alcuni conflitti in modo particolare, non trovano una facile soluzione. In questo caso è necessario essere consapevoli che un conflitto, anche se non può essere risolto, può essere però trasformato. C'è un autore che è conoscitore di questa dinamica del conflitto, Daniele Novara, che indica sei atteggiamenti da maturare per riuscire ad affrontare il conflitto nelle relazioni educative. Il primo atteggiamento è tieni a mente che il conflitto è un problema da gestire, non una guerra da combattere. Abbiamo la tentazione nel conflitto o di ignorarlo perché affrontarlo ci produce ansia e inquietudine, ma in realtà il conflitto dovrebbe essere inteso come un'opportunità di crescita. Il secondo atteggiamento è conta fino a dieci prima di agire. La dimensione temporale ci aiuta a eludere le reazioni impulsive. E' quindi particolarmente importante la gestione della dimensione temporale, che permette di elaborare l'esperienza fissuta e rafforza la possibilità che un conflitto possa essere trasformato in un'occasione di crescita. Agendo in questo modo è possibile spostare il conflitto da una logica reattiva a una logica di comunicazione, nella quale diventa molto più facile trovare una soluzione al problema. Il terzo atteggiamento è quello di non fare mai muro contro muro. Questo atteggiamento implica la possibilità, la capacità di elaborare la provocazione in senso non simmetrico, cioè individuando una soluzione diversa da quella che la provocazione propone. E' necessario trovare delle strategie di superiorità che si sostituiscono a quella di negoziazione. Il quarto atteggiamento bisogna rispettare i contenuti del conflitto. Questo atteggiamento riguarda l'inclinazione di alcuni individui a fornire risposte che impediscono all'interlocutore di esporre una propria visione delle cose. Se si fa così verranno meno sia il confronto sia l'individuazione del problema e ciò farà percepire anche un senso di manipolazione in colui che non riconosce nell'altro un interlocutore valido. Il quinto atteggiamento da mettere in pratica è evitare il giudizio di stigmatizzare perché il giudizio stigmatizzante che attribuiamo attribuendo una connotazione negativa al nostro interlocutore ci porta a limitare le sue possibilità e le sue potenzialità. Quindi bisogna evitare il giudizio altrui o comunque il giudizio che noi diamo sugli altri ma bisogna sospendere il giudizio e quindi sospendere il giudizio significa non applicare all'altro nessuna etichetta non avere nessuna prevenzione o pregiudizio è necessario attuare nel dialogo conflittuale un ascolto attivo essere ricettivi nei confronti dell'altro essere capaci di mettere tra parentesi il proprio sé mettere da parte il proprio sé significa non focalizzarsi soltanto sui propri bisogni sulle proprie preoccupazioni, insicurezze o sulle proprie aspettative ma avere la capacità di concentrarsi sull'altro perché dall'incapacità di ascoltare l'altro deriva il bisogno incontrollato di imporre all'altro se stessi saper ascoltare allora significa mettere in discussione se stessi attraverso una capacità introspettiva che ci permette di conoscere tendenze e risonanze emotive che inevitabilmente l'altro attiva dentro di noi durante il dialogo conflittuale è necessario allora anche avere la capacità di sperimentare una critica costruttiva è difficile attuarla perché implica varie componenti l'assertività, l'empatia, la comunicazione, l'ascolto sapere gestire le emozioni avere delle motivazioni importanti in modo particolare si riferisce alla capacità di esprimere i propri pensieri le proprie idee e sensazioni di però definire e rispettare i limiti nostri e altrui di comunicare e ascoltare in modo aperto, diretto e onesto perché ci sono persone che sono sempre protese comunicano essenzialmente attraverso una critica costante verso tutti e verso tutto mediante questo atteggiamento criticano sempre con atteggiamenti aggressivi e offensive non hanno la capacità di ascoltare l'opinione dell'altro si sentono sempre feriti e colpiti e questo tipo di atteggiamento lede le relazioni interpersonali è importante allora saper porgere le proprie osservazioni senza che vengano percepite come minacciose attraverso atteggiamenti aggressivi solo così quando si è capace di un dialogo aperto a un ascolto autentico si ha la capacità di un reciproco riconoscimento delle differenze ecco questa critica costruttiva migliora le prestazioni migliora le relazioni, il senso di autoefficacia e questo nella relazione interpersonale conflittuale è l'atteggiamento che viene definito come intelligenza emotiva è un'abilità essenziale nelle relazioni e quindi un atteggiamento importante è anche saper dire di no quando occorre dire di no è un'abilità essenziale nelle relazioni interpersonali indica la capacità di sapere evitare e aderire ad ogni pensiero ad ogni concetto a conformarsi a tutto e a tutti e questo rende autentica la relazione anche nel dialogo conflittuale perché si rimane autentici saper dire di no poi significa saper mantenere anche le proprie idee i propri punti di vista e i propri valori per cui l'intelligenza emotiva la si può definire come la capacità di motivare se stessi di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni di controllare gli impulsi di rimandare le gratificazioni di saper modulare i propri stati d'animo evitando la sofferenza che la sofferenza ci impedisca di pensare di essere empatici e di sperare in questo senso l'intelligenza emotiva non è un semplice un insieme di competenze psicologiche ma anche un insieme di abilità sociali motivazionali operative necessarie per il nostro benessere ecco gli individui con un buon livello di intelligenza emotiva sono generalmente più consapevoli delle proprie emozioni e sono in grado di gestirle in modo più efficace rispetto ai soggetti che manifestano comportamenti disfunzionali di fondamentale importanza è acquisire appunto una certa capacità dell'intelligenza nell'uso dell'intelligenza emotiva per riuscire ad adottare nei confronti dell'altro un atteggiamento di ascolto aperto empatico profondo e neutro per concludere possiamo dire che il conflitto si configura come una dinamica caratterizzante ogni incontro ed è esso stesso incontro l'emergere della diversità che è insite in ogni essere umano favorisce la nascita di conflitti nelle relazioni personali ecco la necessità allora di un intervento educativo di tipo preventivo che possa educare la persona all'accettazione della diversità altrui e alla gestione positiva del conflitto al fine di poter restaurare relazioni interpersonali autentiche e significative i conflitti non si possono in alcun modo evitare ed è per questo che bisogna imparare a riconoscerli e a gestirli è fondamentale interpretarli come manifestazione di diversità come occasioni di crescita come opportunità per migliorare le relazioni interpersonali una delle regole fondamentali è che la risoluzione di un conflitto non deve determinare né vinti né vincitori ma solo soggetti soddisfatti di aver trovato un punto d'incontro è importante anche sottolineare che la gestione positiva dei conflitti porta l'individuo a beneficiare di alcuni vantaggi primo maggiore serenità e autostima quando i soggetti riescono a gestire i conflitti sperimentano di essere in possesso di risorse e capacità idonee al fronteggiamento di situazioni difficili secondo si migliorano le relazioni sociali la gestione del conflitto implica un maggiore grado di conoscenza e di relazione tra i soggetti interreagenti e un incremento delle competenze relazionali terzo l'aumento della creatività la gestione positiva del conflitto implica l'utilizzo del pensiero divergente e della creatività essenziali per riuscire a produrre idee e soluzioni appropriate alla situazione conflittuale di riuscire di riuscire